Che camellia che abbiamo qua! Cosa ne pensate? Profumatissima! Dai, vediamo un attimino di centrare la pianta, vediamo di farla vedere integralmente. Aspettate che mi allontano. Eccola qua, si vede di me. Oddio, chi è che è arrivato? Aldo! Tutto la consegna non c'era nessuno. Come non c'era nessuno? Non c'era a casa nessuno. C'era una nostra follower e non vuole ricevere questo bouquet? Era via, era via. Ah, era via. Cosa facciamo? L'abbandoniamo? No, adesso lo rimetto al fresco. Ma che bello, come è originale, che colori! Rosi olandesi. Rosi olandesi. Gerberini piccolini. Aspetta che nel centro? Wow, che colore! Garofani. Poi sono statici. Statici. Margherita, l'ho già detto. Ma tutta roba olandese, quindi tutto dall'Holland. Tutto olandese. E in Italia non facciamo fiori. Forse giusto il verde. Forse il verde. Ascoltami, Aldo, sei contento di essere su YouTube? Sì. Saluto a tutti i nostri 30 e pochi rotti follower. Ciao! Ciao a tutti. Dai, ragazzi, mi raccomando, cosa dovete fare? Dovete commentare il video, fare la visualizzazione, l'avete già fatta, e schiacciare qui in basso alla vostra destra iscriviti per essere aggiornati sui nostri video futuri. Un saluto da Giovanni, che è dietro e da... A presto!